Non mi ho sentito Ti faccio sognare, sì, gioia mia Anche la mia ex mi aveva detto così una volta E allora, bene, niente Allora, bene, che cosa c'è adesso maestro? Ah, devo cantare io, giusto Allora, negli ultimi anni, come detto Piero, cerchiamo di dare, diciamo, sfogo e spazio alle nostre personalità Cantando cosa più ci rappresenta Anche se non so mai cosa cantare, ecco Che un po' mi piacesse le aglie, un po' ci puggia Però, nel senso, messe insieme, sono buone insieme E nei scorsi anni ho sempre cantato qualcosa che solo le donne avevano cantato Cioè, nel senso, ho cantato almeno due nell'universo Il 5 giugno l'anno scorso ho cantato Listen E quest'anno ho detto, cosa posso mai cantare? Che non è che è facile, no? E quindi ho detto, bene Canto una canzone di una dell'artista Non quella lì, un'altra Signora, non è quella lì, un'altra No, aspetto, aspetto No, io aspetto, non è che Ciao E per favore, state disturbando la signora Ok A posto, signora Ti immagini, era Vodafone No, 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 ma si figura Ricarica almeno un po' Tipo, né, gli autori Bene, allora, ho deciso di prendere una delle canzoni di un artista Una delle più famose Sibindione E in realtà, questa canzone è stata scritta da un uomo francese Da un francese E l'ha portata al successore Quindi s'era vorrei Proporvi All by myself Signora, parola Si, all by myself Maestro Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!